Ehi ciao a tutti, io sono Cinzia e devo fare un video super veloce perché è tardissimo Volevo solo augurarvi un buon anno, ho il fiatone perché sto facendo tutto di corsa Devo andare a lavorare e niente, io passerò il mio capodanno al lavoro Sia il 31 che l'1 e anche il 2 Oddio, lavorerò tantissimo, ma va bene Volevo avvisarvi che non uscirà oggi il video di The Sims perché ho avuto 3000 problemi Con il computer, con il programma, ho provato a... mio padre che suona Ho provato a registrarlo tipo 3 volte, però va bene Ho voluto fare questo piccolo piccolo video per augurarvi di fretta e furia un buon anno Un buon 2017 e speriamo che sia un anno buono per me E niente, un bacio grande, siamo 9000, siamo in tanti, cresciamo sempre di più Ciao ragazzi, buon anno, vi voglio tanto bene Passate un felice, felice primo gennaio Un felice primo gennaio Ciao Ciao Ciao